Ciao, sono Kasia Skrupa, vengo dalla Polonia e sono palesiatrice di Saugella Monza. Nella mia carriera ho giocato nei tanti club in Polonia, poi mi sono trasferita in Italia, poi sono andata via, ho giocato due anni a Rabita, poi sono di nuovo tornata in Italia, poi sono andata via in Turchia e poi sono tornata in Italia. Cosa penso di campionato italiano? Di sicuro il livello è altissimo, direi anche che ogni anno in più, è molto divertente, si sta bene e mi piace in generale. Non siamo solo noi che giochiamo campionato e le coppe, quindi tutti sono in questa situazione, poi al certo livello è così, si gioca le coppe, si gioca campionato, mi aspetto che sarà difficile, ma noi cercheremo di mantenere il nostro ritmo, il nostro gioco e migliorare sempre. Ciao a tutti, vi aspetto qua al palazzetto.